buonasera a tutti ragazzi vi saluto come sempre sono mor sono ancora tornati qui ad aggiornarvi come ribadisco sempre io sento sempre l'obbligo di aggiornarvi di informarvi ma anche di orientarvi per tutto quello che tocca la comunità senegalese africana insomma la diaspora che vive sul territorio italiano quindi vi chiedo scusa perché di sicuro questa settimana vi abbiamo rotto le scatole con delle video però è solo l'obbligo di informarvi a tempo perché abbiamo al momento in cui vi sto parlando delle ultime novità che riguarda la comunità senegalese tutta la diaspora che vive sul territorio italiano oggi cercheremo a elencare tutte le novità avete visto che anche oggi ragazzi al momento in cui vi sto parlando siamo alle 18.30 in senegal e alle 8.30 in italia al momento in cui vi sto parlando è stato approvato al cdm di oggi dove c'è la presenza di mario draghi il premier il decreto proroghe allora questo decreto ragazzi è un decreto che anche fa a parte nonostante anche ci saranno alcuni provvedimento dentro ma anche un decreto che fa la proroga di alcuni documenti scaduti permessi di soggiorni passaporto carta identità patente anche tutti i documenti scaduti allora un decreto che praticamente fa la proroga dei documenti scaduti allora la seconda novità è questo allora avete visto anche che oggi c'è stato l'incontro tra i sindacati del settore agricoli e il ministro dell'agricoltura stefano padduanelli allora è uscito fuori che nonostante che gli agricoli i braccianti agricoli dovevano scendere in piazza domani o non lo so forse oggi il giorno 30 per un sciopero all'ultimo all'ultimo minuto è stato sospeso quello sciopero perché il governo ha dato quindi delle garanze che si saranno nel prossimo decreto sostegno bis o aprire il bonus agricoli braccianti per tutti i lavoratori agricoli a tempo determinato quindi è una novità di sicuro che vi dobbiamo aggiornare avete visto anche che sempre che il governo stavano stavano dei decreti noi siamo sempre vicini a sapere di più perciò siamo dicendo che abbiamo l'ultima notizia come si dice in inglese we have the last update news the breaking news oggi cercheremo la fine del video è stata una notizia come si sta a fatto l'ultima notizia come si sta a fatto il governo ha detto che i Il nostro avuto il nostro corso gratuito è stato utilizzato nel 31 Julio. Quindi il nostro corso gratuito è tutto il nostro corso gratuito, che ciò che si chiama il suo sottotone il nostro corso gratuito è stato utilizzato nel 30 Avril. Quindi il nostro corso gratuito è stato utilizzato, Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.